Ebbene sì, non ci avrei scommesso un singolo euro bucato, ma questo clone cinese economico è il computer portatile più versatile e conveniente attualmente in commercio. E no, non sto esagerando. Ma quanto è bello, ragazzi? Avete mai visto nulla del genere? Beh, io devo essere sincero, sì, vi ho recensito il modello originale un po' di tempo fa dell'Asus, l'Asus Zenbook Duo, però lui, a differenza dell'originale, costa molto meno. Lo Zenbook Duo di Asus ha un prezzo che oscilla tra i 2.000 e i 3.000 euro, in base alla configurazione. Questo clone cinese, così boh, criticato da alcuni, invece, ha un prezzo inferiore ai 700 euro. E se entro a fine video vorreste considerare il suo acquisto, beh, lo trovate in offerta dove, beh, ovviamente nel mio canale Telegram ufficiale TechBest News, primo link qui sotto in descrizione di video. Entrate e cercate N1 N-Book Fly. Certo, questo, a differenza dell'originale, non ha un display OLED, processore e connettività di ultima generazione, ma se lo prendiamo nel modo giusto può essere una validissima alternativa economica. Ora, prima che qualcuno inizi a dire, eh, Michele, se 150-700 euro non è economico, è vero, ma va tutto contestualizzato, perché in questo caso stiamo parlando di un laptop con due display. Ok, trovatemene voi uno a un prezzo inferiore. Ora però, a cosa serve un accrocchio come questo, con due display? Di cui quello superiore è un Full HD da 16 pollici, mentre quello inferiore è un 14 pollici touch in risoluzione oltre il 2K. È pensato ovviamente per la produttività, e vi faccio un esempio. Per il lavoro che faccio io devo gestire continuamente diversi tipi di social, da YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, quello che è. Quindi avere più monitor che mi diano la possibilità di aprire più schede, senza doverle poi rimpicciolirle, ridimensionarle, chiuderle o riaprirle, mi permette di rifarmiare un sacco di tempo. E quindi di essere molto più produttivo. E se a casa mia la mia configurazione principale è un triplo monitor, beh, lui mi permette di avere un'ottima produttività anche in viaggio, anche quando sono fuori casa, portandomi solo un dispositivo appresso. E per quanto riguarda portarselo appresso, beh, lui entra perfettamente nel bagaglio a mano delle principali compagnie aeree. Ad esempio questo è uno zaino pensato per Ryanair. Entra a pelo, ma entra. Quindi lo posso portare anche in aereo. Fantastico. E allo stesso modo è una macchina fantastica per chi lavora con la musica, ad esempio, per chi vuole editare video. Non a caso il video che state guardando in questo momento in risoluzione 4K è stato interamente editato da qui. O ancora per lo streaming, impostando in basso un programma come OBS, in alto le schermate visualizzate. Insomma può essere definito sì un accrocchio, ma un accrocchio estremamente versatile in tantissimi ambiti. La tastiera QWERTY è internazionale ovviamente, volendo potete attaccarci degli adesivi con lettere e caratteri accentati italiani, i tasti sono retroilluminati e il touchpad posto nella parte destra non mi dispiace affatto. Anzi lo trovo comodo ed è anche preciso. Peccato magari sia un po' piccolo. Sono rimasto particolarmente stupito da come è ingegnerizzato questo portatilo, ovvero come è costruito. È interamente in alluminio e anche la cerniera che va a sollevare il secondo display mi sembra molto robusta e ben fatta. Forse, forse è leggermente copiata da quella di Asus, ma vabbè, funziona bene. Entrambi i display sono IPS, quello principale è un 16 pollici, più che decente, pensavo molto peggio guardando qualche recensione in rete, c'è da dire che questa versione è un upgrade di quello che veniva venduto alcuni mesi fa. Invece il display inferiore è qualitativamente migliore, ha una risoluzione più alta dei colori, una calibrazione generale migliore e il touch funziona bene, quasi al pari di uno smartphone. Comunque calibrando entrambi i display si ottiene un risultato più che buono, specialmente considerando il suo prezzo. Nella parte inferiore troviamo una doppia ventola di raffreddamento che serve a raffreddare un processore potente ma vecchiotto. Si tratta di un Intel i7-10850H6 Core che sì, non è aggiornatissimo, ma ancora abbastanza potente e adatto per un po' qualsiasi software. Ed è coadjuvato da 16 GB di RAM DDR4 espandibili e 1 TB di SSD espandibile anche lui. Quindi con una piccola spesa è possibile incrementare ulteriormente le sue prestazioni. Versante connettività abbiamo una porta USB-C molto veloce nel trasferimento dati ma purtroppo non utilizzabile per la ricarica. Tre porte USB 3.0, una HDMI, un jack 3.5 mm e lo spinotto di ricarica. Purtroppo ragazzi c'è da portarsi dietro questo qui al sud, li chiamiamo mambroni, ovvero degli oggetti molto grossi e ingombranti. Sotto questo aspetto si poteva fare decisamente meglio. C'è a dire però che si vendono anche dei alimentatori universali più piccoli. E ve li lascio linkati su Telegram insieme al PC. E qui dietro c'è anche una porta molto particolare. Si tratta di una PCI Express di nuova generazione che permette di collegare, pensate, delle schede grafiche usando questo adattatore che vedete in foto. Se riesco a trovarlo in rete ve lo lascio anche lui su Telegram. Ora ragazzi forse iniziate a capire cosa intendevo ad inizio video con computer portatile estremamente versatile. Abbiamo anche l'Ethernet Gigabit e la connettività wireless Bluetooth 4.2 e Wi-Fi Dual Band che in questa versione è stato migliorato aumentandone la qualità di ricezione e anche la potenza. Ci potete giocare? Beh a qualche titolo leggero, non troppo impegnativo lato hardware volendo, anche se non abbiamo un chip grafico dedicato ma dobbiamo affidarci a quello integrato del processore. L'audio invece stereo, due speaker, è molto buono e abbastanza forte. Ho visto di peggio su prodotti molto più costosi. E la batteria permette dalle 3 alle 5 ore di autonomia che per un dispositivo particolare come questo non sono affatto male. Abbiamo anche una piccola webcam da 1 megapixel in alta risoluzione e anche in questo caso ho visto di peggio su prodotti più costosi. La digitazione sulla tastiera è comoda, non abbiamo un po' già polsi ovviamente essendo la tastiera apposta in basso, comunque non flette, i tasti ad isola sono grandi, ben spaziati, nonostante il form factor particolare. E ragazzi questa è una cosa che nessun altro ha mostrato, ovvero la possibilità sì di aumentare la luminosità del display superiore, ma tenendo premuto il tasto funzione più alt più la luminosità, aumentare e abbassare anche la luminosità del display inferiore. E questo molti non l'hanno scoperto. E non posso nemmeno dargli troppo torto perché questo è il manualetto di istruzioni scritto in diverse lingue che non dice praticamente nulla. E devo ammettere che anche il design in linea generale non mi dispiace affatto, con questo grande display principale da 16 pollici con cornici super sottili e la parte inferiore che è chiaramente, non voglio dire copiata, ma diciamo ispirata al modello originale di Asus. E in conclusione ragazzi consiglio oppure no questo N1 Nmuk Fly, beh considerando che si tratta di un clone cinese economico e per tanti questo è già un punto negativo che non ne farebbe nemmeno considerare l'acquisto, beh io lo consiglio ragazzi. Ossia chiunque sia in cerca di una macchina versatile e dalle buone prestazioni. Qualcosa del genere con due display da potersi portare in viaggio nello zaino da mettere sotto il sedile dell'aereo non si trova facilmente in giro, anzi è quasi impossibile. L'unica alternativa è il modello di Asus che costa praticamente più del triplo di questo modello. Che lo ripeto ragazzi, quando va male costa attorno ai 700€ e spesso invece costa anche qualcosina in meno. E se volete acquistarlo entrate subito nel mio canale Telegram Tech Best Deals linkato qui sotto in descrizione di video, primo link è cercatelo e lo troverete al suo prezzo più basso insieme a qualche accessorio dedicato che vi consiglio. Invece per chi cerca una macchina più specifica mi viene in mente ad esempio il fotoritocco che quindi ha bisogno di un display di qualità superiore. Beh magari questa non è la macchina adatta, però c'è sempre da contestualizzare. E detto questo ragazzi ora ditemi voi cosa ne pensate di questo M1 Mbook Fly. Lo trovate un computer portatile interessante, un accrocchio che potrebbe essere valutato per un eventuale acquisto oppure pensate che sia solo spazzatura cinese? Beh parliamone insieme qui sotto nei commenti. Dite la vostra, per dubbi domande sono a vostra totale disposizione. E se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarmi, condividete le vostre amici e iscrivetevi al canale che conta già quasi 107.000 iscritti. Grazie a tutti amici, un abbraccio, vi voglio bene, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre come vogliate e sempre qui su Addicta e su Tech. Alla prossima, ciao belli. Grazie a tutti.